Cristian Stefanelli ha partecipato ad un'edizione di Amici come ballerino Durante il suo percorso ha stretto una forte amicizia con Mattia Zenzola, i due ancora oggi si adorano. Sono tantissimi i ballerini che nel corso degli anni partecipano ad Amici sperando di poter stravolgere il proprio futuro. Cristian Stefanelli ha partecipato all'edizione che ha visto trionfare Luigi Strangis. Durante i mesi nella scuola più seguita della televisione italiana il ballerino ha stretto un rapporto speciale con Mattia Zenzola. I due ragazzi sono diventati molto amici e hanno condiviso insieme ogni momento all'interno della scuola. L'infortunio di Mattia e l'uscita di quest'ultimo dal programma rappresentò per Cristian un duro colpo da gestire. Il rapporto tra i due è sempre stato motivazionale per il percorso di entrambi. Cristian e Ellie dedica alla fidanzata nel giorno del suo compleanno. Dopo amici Cristian e Mattia hanno continuato a frequentarsi coltivando e rafforzando la loro amicizia. Il ballerino ha seguito Zenzola durante tutto il suo percorso ad Amici, fino alla vittoria che ha riempito il suo cuore di gioia. Entrambi stanno proseguendo con gli obiettivi prefissati, Cristian continua a studiare e a ballare per poter migliorare giorno dopo giorno. Ma cosa sappiamo della sua vita sentimentale? Il ballerino è fidanzato con una pattinatrice professionista di nome Carolina Peroni, e in occasione del suo compleanno, le ha fatto una dedica speciale. I due stanno insieme da diverso tempo, ma Cristian non condivide spesso scatti e momenti vissuti insieme, probabilmente per preservare al meglio la relazione. In occasione del compleanno della ragazza però, il ballerino ha postato un collage con i momenti più belli arricchiti da una dedica. Tanti auguri principessa. Sui social appaiono spesso scatti insieme a Mattia, anche quest'ultimo sembrerebbe proprio aver trovato la felicità dopo la fine della relazione con Maddalena, la ballerina presente ad Amici durante la sua edizione. Oggi Zenzola è sereno con la sua compagna di ballo, ovvero Benedetta. Quest'ultima è stata una spalla fondamentale durante il serale di Amici, ed anche dopo il programma. Si può dire che questo sia un momento d'oro per i due ragazzi, giovani e con tanti progetti da realizzare. Amici ha rappresentato per entrambi, seppur con risultati diversi, un importantissimo trampolino di lancio, necessario per potersi rapportare ai vari professionisti, e al pubblico a casa. Rivedremo Christian e Mattia insieme in qualche nuovo progetto? Il loro rapporto è amatissimo dai fan in quanto dimostrazione lampante di quanto l'amicizia, quando è vera e sincera, riesca a resistere nel tempo e ad essere un validissimo appoggio sul quale poter contare.